Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori tablet PC con tastiera convertibili. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance! Cominciamo con la lista! Numero 5 della nostra lista c'è Microsoft Surface Go 3. Un grande dispositivo 2 in 1 che sostituisce il tablet e il laptop. Surface Go 3 è un piccolo e facile da usare per tutti in famiglia. È progettato per ottenere il meglio di Windows 11 con il suo touchscreen e la penna digitale, il veloce processore Intel e la versatilità di un computer portatile convertibile in un tablet. Con fino a 11 ore di durata della batteria in movimento e quick charge, è possibile ricaricare la batteria immediatamente quando è necessario collegare il dispositivo. Surface Go 3 è un grande dispositivo 2 in 1 che sostituisce il tablet e il laptop. È progettato per ottenere il meglio di Windows 11 con il suo touchscreen e la penna digitale, il veloce processore Intel e la versatilità di un computer portatile convertibile in un tablet. Con fino a 11 ore di durata della batteria in movimento e quick charge, è possibile ricaricare la batteria immediatamente quando è necessario collegare il dispositivo. Surface Go 3 offre la massima produttività in movimento grazie al suo design compatto e leggero. Quarto posto abbiamo Lenovo Tab P11 Pro. Il Lenovo Tab P11 Pro è un computer tablet con un display IPS da 11,5 pollici, che è stato sviluppato appositamente per il settore educativo e dispone di una risoluzione doppia Vuxi AD, 2560x 1600 pixel. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 730G fornisce abbastanza potenza per eseguire e senza problemi le applicazioni più esigenti. Inoltre, i 6 GB di RAM rendono il multitasking facile e fluido. Con gli altoparlanti stereo a quattro lati con tecnologia Dolby Atmos, il dispositivo offre un'esperienza sonora impressionante che si può godere sia in classe che a casa. Il Lenovo Tab P11 Pro è un computer tablet versatile e potente, ideale per studenti e insegnanti. Con il suo display doppia Vuxi AD a 11,5 pollici, la risoluzione di 2560x 1600 pixel offre un'immagine chiara e dettagliata. Il processore Qualcomm Snapdragon 730G è abbastanza potente per eseguire le applicazioni più esigenti. Inoltre, i 6 GB di RAM facilitano il multitasking. Numero 3. Abbiamo Samsung Galaxy Tabella. Il Galaxy Tab S7 Plus è il tablet di intrattenimento definitivo. Con un grande display HDR Ready e il suono Dolby Atmos simbolo di marchio registrato, è perfetto per guardare i tuoi film preferiti o giocare con gli amici. E quando non lo usi, il Galaxy Tab S7 Plus può funzionare come sveglia per svegliarti dolcemente al mattino. Il Galaxy Tab S7 Plus è il tablet di intrattenimento definitivo. Con un grande display HDR Ready e il suono Dolby Atmos simbolo di marchio registrato, è perfetto per guardare i tuoi film preferiti o giocare con gli amici. E quando non lo usi, il Galaxy Tab S7 Plus può funzionare come sveglia per svegliarti dolcemente al mattino. Con la tecnologia Super AMOLED, il Galaxy Tab S7 Plus offre una qualità dell'immagine superiore, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus offre prestazioni veloci e fluide. E grazie alla funzione di ricarica rapida, puoi caricare il tablet in pochi minuti. Numero 2. Abbiamo 2021 Apple iPad. L'iPad Pro 11 pollici è un potente tablet progettato per il mondo in cui viviamo oggi. È dotato di un chip A12X Bionic con prestazioni di livello successivo e un'architettura a 64 bit di classe desktop che offre prestazioni incredibili, effetti in tempo reale e montaggio videocinematografico. Il display Liquid Retina è dotato della tecnologia True Tone in modo che i colori siano vividi all'interno come all'esterno. E ha anche una più ampia gamma di colori P3 perverdi, rossi e altri colori più vibranti. Il 12,9 pollici di questo tablet è paragonabile a un monitor da 27 pollici, consentendo agli utenti di lavorare su progetti di grandi dimensioni o di guardare film e programmi TV in Full HD. L'iPad Pro 11 pollici è compatibile con l'Apple Pencil e con il nuovo Smart Keyboard Folio per consentire agli utenti di sfruttare al meglio le sue funzionalità avanzate. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Microsoft Surface Book. Il Surface Book 3 è un portatile potente con un design versatile. Ha 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, che lo rende perfetto per il multitasking e l'archiviazione di file. La fotocamera abilitata a Windows e lo rende l'accesso facile e veloce. Ha anche una scheda grafica condivisa in Teliris Plus Graphics per grandi prestazioni grafiche. La durata della batteria è fino a 15,5 ore, così puoi lavorare tutto il giorno senza doverlo ricaricare. E viene fornito con il sistema operativo Windows 10 preinstallato. Il Surface Book 3 è un portatile potente e versatile, perfetto per il multitasking e l'archiviazione di file. La fotocamera abilitata a Windows e lo rende l'accesso facile e veloce. Ha anche una scheda grafica condivisa in Teliris Plus Graphics per grandi prestazioni grafiche. La durata della batteria è fino a 15,5 ore, così puoi lavorare tutto il giorno senza doverlo ricaricare. E viene fornito con il sistema operativo Windows 10 preinstallato. Verrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.